Ministro, il leader dei Verdi Bonelli denuncia nella DL semplificazione una norma che permetterebbe il condono. Lei farà qualcosa in Consiglio dei Ministri per fare in modo di levarla? Ma guardi, già ieri sera abbiamo fatto un incontro tra noi ministri in modo ufficioso, voi lo sapete d'altro canto, nel quale abbiamo discusso non solo di questo ma anche di questo. Qualche cosa già sta cambiando, oggi pomeriggio più tardi ci rivedremo, ci risentiremo, ci rivedremo, poi dipende dalle condizioni materiali per discutere di questo perché sicuramente per giovedì, che dovrebbe essere la data prevista per il Consiglio dei Ministri, passerà una norma che ci vede tutti quanti i concordi. Andrà via questa norma perché Bonelli denuncia il fatto che è uguale a quella proposta dalla Lega? Guardi, adesso non ho fatto il paio con quello della Lega, non le so rispondere in termini tecnici, però chi mi conosce sa che io non amo particolarmente i condoni. Detto questo sicuramente si trova una soluzione adeguata per fare andare avanti il DL semplificazione.